Bella a tutti fornite arts, benvenuti e bentrovati su Leone Group in questo video andiamo a vedere come fare il penultimo incarico dei metalli che ripristina salute e ottieni scudi all'interno della tempesta tutto molto facile dobbiamo essere dentro la tempesta e ripristinare saluti o scudi quindi andiamo a rifornirci di scudi, bastano anche scudi e prendiamo un mezzo per poi andare dentro la tempesta allora eccoci qua, ci siamo belli riforniti abbiamo sia lo scudo che il medikit abbiamo l'auto quindi ora non ci rimane che aspettare la tempesta e poi andare a ricaricarci quindi iniziamo ad andare da questa parte ecco la tempesta è partita quindi ora non ci rimane che andare nel punto indicato, entrare dentro la tempesta e farci lo scudo evitiamo qui di farci il cactus eccoci che stiamo arrivando dentro la tempesta eccola qua, cambiamo posto siamo dentro la tempesta e iniziamo a farci lo scudo e il miscarico lo completiamo in questo modo ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti abbiamo preso la lettera C ci manca la lettera A per completare il poster dei Metallica ciao a tutti di nuovo ciao